Non c'è stato mai un momento più importante come quello di oggi per essere liberali in Europa ed in Italia. Liberale vuol dire battersi per la libertà di scelta degli individui e degli imprenditori. E questa libertà in questo momento è schiacciata dalla recessione, è schiacciata dalle politiche sbagliate. Quindi scegliere una coalizione che si batte per i valori liberali, che dice no all'ottusa austerità, che dice sì rimaniamo nell'euro per scegliere insieme a Stati Uniti e Cina il futuro delle future generazioni, questo sì che è importante, ma non all'ottusa austerità, quindi dentro l'euro ma in un'Europa molto diversa.